E più che trattarsi di ricordare come usare la memoria, si tratta proprio di utilizzare la fantasia, perdonatemi, che è una cosa alla quale io proprio non sono abituata, ma perché ho sempre utilizzato la ripetizione e adesso sono arrivata a un punto in cui proprio il mio corpo ha avuto proprio un rifiuto rispetto alla ripetizione. Io mi annoio, mi annoiavo sia a ripetere che a scrivere. Per me anche fare i riassunti era diventato un trauma. Quindi insomma voglio proprio applicare il più possibile. Se ci sarà la possibilità di poter riseguire il corso in itinere, io lo farò perché lo farò insomma.